Allora, innanzitutto, grazie per aver accettato di essere qui questa sera e in questa conferenza stampa, ma più che conferenza stampa, nella presentazione del cartellone degli eventi estivi. Voi vi chiederete perché è in mezzo al corso. Io di solito mi definisco un sindaco fuori dal comune. Perché fuori dal comune? Fuori dal comune perché ci piace avere il contatto con la gente, quel contatto che abbiamo perso un po' durante il Covid, che ormai è acqua passata, e ci faceva piacere avere un confronto con le persone per poter spiegare questa sera a tutta la cittadinanza di Minagatelli qual è il programma degli eventi estivi. E poi vi faccio una critica a me stesso, perché va bene tutte le cose belle, ma qualche cosa negativa non la faccio a me, è quella che ogni volta su tutte le mie cose ci sono riguardo a fare, ci metto la faccia, ci mettiamo la faccia, perché vogliamo che questo corso Vittorio Emanuele, così come l'abbiamo vissuto questa mattina, è stata una giornata bellissima di colori, tanti partecipanti, oltre 600 partecipanti, tra Pina Castelli e le città di Nitro, che diceva una cosa critica, che ci dobbiamo impegnare di più come amministrazione, ma questo lo rivolgo anche i cittadini, dobbiamo fare in modo di far aprire qualche locale al centro percorso, ci metteremo di impegno già a partire da subito per far aprire una giulateria e quant'altro, perché non è possibile che siamo stimati su tante altre cose e magari non riusciamo a fare qualcosa a forza, ecco questa è la critica di poca per adesso, e quindi ecco perché questa sera è una conferenza stampa in mezzo al forzo qui, perché ci dobbiamo mettere la faccia, rimboccarci le maniche e darci la palla tutti in fine. Bene, dopo aver detto questo, rinnovo ancora alcuna frase da tutti, come amministrazione vi posso dire che abbiamo, credo, fatto un cartellone di eventi che possa dare la possibilità di orgoglio a tutti voi cittadini di Nitro Castelli, ma alle tante persone che verranno quest'estate nella nostra città, perché non abbiamo niente da temere a nessuno, sicuramente non vogliamo confrontarci con nessuno, ci vogliamo soltanto confrontare con i nostri cittadini. Saluto, prima di iniziare a parlare di programma, i miei consiglieri comunali, anche chi è assente, Marisa, perché è in dolce attesa, saluto Antonello, saluto Anna, perché sono assenti per motivi di lavoro e saluto i colleghi presenti qui questa sera. Niente, come vi dicevo, è un programma importante dove mette insieme un mix tra gli eventi del posto, dicevo, le associazioni e gli eventi importanti. Passo volentieri la parola alla collega Maria Silberto. Grazie. Ciao, buonasera a tutti. Allora, anche quest'anno siamo soliti a presentare il nostro bellissimo calendario, il cartellone estivo. Il nostro, non solo nostro, di consiglieri e assessori, ma il nostro di tutti. Abbiamo pensato un po' a tutti, abbiamo pensato soprattutto ai bambini, perché per noi i bambini sono il punto di partenza. Abbiamo pensato ai più grandi, perché anche i genitori comunque portano i loro bambini, come è successo stasera, insomma, che siamo veramente tanti. Abbiamo un calendario ricco. Siamo partiti stamattina con Lorenzo Ammirabile, con la Robo, riapportato veramente colore a Villa Castello. Siamo partiti già con il 4 giugno, con un concerto lirico, su in aula consigliare con Mariela D'Urso. E' un bellissimo torneo di pallavolo, il 30 giugno. Abbiamo poi, come diceva il sindaco, il feste di quartiere. Abbiamo pensato anche ad allontanarci un attimino dal corso, la zona nord, insomma, di Villa Castelli. Quindi via Belvedere, via Kennedy, feste di quartiere. Ma non dobbiamo dimenticare le nostre tradizioni, quindi musica popolare. Ci sarà, visto che abbiamo inaugurato la Scalinata della Felicità e comunque l'appo Gozzolino, ci sarà la Spaccatellata con la Proloco. Il 18 di agosto, il solito e bellissimo festival dell'Organetto, l'Associazione Lampe. Abbiamo poi, per i più piccolini, La notte bianca dei bambini, il 30 luglio. Ah, ci saranno diverse commedie. C'è la commedia di Gli amici del teatro, Mestruciggio alla riscossa. Ci saranno un'altra commedia, una commedia medievale. Francesco Nigro, che si occuperà della parte della cultura. Giovanni Sembraro e Bonni, Blonoce, l'8 e il 9 settembre, al Parco Madre Teresa di Calcutta. Allora, come vi ho detto, come diceva giustamente Maria, il 5 e il 6 di luglio ci saranno le feste di quartiere, musica popolare. Quindi siamo in Piazza Kennedy e via per vedere. Quindi 5 luglio e 6 luglio. Poi il 22 luglio, Ciccio Riccio Tour. Saluto volentieri, ecco perché non dobbiamo indicare coloro che ci supportano dalla protezione civile. Tornare online di Carmela Biondi, di Castelli, anche che ci accompagneranno. Saluto Gianni Valenti, il professor Costanzo, le nostre guardie, la polizia locale. Gli amanti anche della musica popolare. Il 23 luglio abbiamo l'orchestra Mancina. Poi abbiamo il 30 luglio, come diceva Benissimo Maria, il festival degli artisti di strada, la notte bianca dei bambini. Quest'anno invece la pezza della Madonna del Carmen è Fiordaliso. Allora, Fiordaliso, la pezza della Madonna del Carmen. Il 5 agosto, prego Maria, farlo vedere tu, abbiamo il cantante Michele Zarrillo in concerto. 5 agosto Michele Zarrillo. La verità sappiamo anche il cantante della pezza padronale. Ma non ve lo diciamo. Però questo stasera non ve lo posso dire, è come pubblicità. E saluto anche la parrocchia che ci dà una mano. E come diceva Don Antonio poco l'altra sera, a conclusione della Santa Messe del Corpus Domini, che non tutte le cose sono scontate. Se non ci fosse la collaborazione del resto delle città di Canza, dei ragazzi, per i diritti, della protezione civile, della polizia locale, qui non si farebbe niente. C'è il lavoro di squadra, il lavoro di tutti. Poi un'altra cosa per i bambini. Domani mattina, i bambini da 6 a 13 anni, perché c'è le domande per il progetto estivo. Anche quest'anno l'amministrazione comunale di concerto con l'amministrazione sul comune ha compilato la domanda per il soggiorno estivo per i più piccoli. Bene, allora, il 24 giugno abbiamo la festa dei nostri ragazzi, i nostri amici, la festa del volontariato della protezione civile. Quindi il 24 giugno, il 1 ottobre, ritornano, ecco, con entusiasmo lo dico, perché ritornano? Perché il 1 ottobre c'è Gianni Valente che pubblica sempre ciò che si è fatto durante le nostre feste patronali, la tradizione per mettere in mostra ciò che Villa Castelli ha da proporre, non soltanto alla gente di Villa Castelli, ma a tutti coloro che frequentano la pietra patronale. Qui la parola a Francesco. L'assessorato con questo riferimento, quindi l'assessorato della cultura, abbiamo voluto fare insieme, in collaborazione con Carmela Biondi, una resegna di presentazione di libri, come abbiamo fatto già l'anno scorso, abbiamo iniziato l'anno scorso questa esperienza, la ripetiamo. Quindi ci sono una serie di libri che porteremo qui a Villa Castelli, che discuteremo direttamente con gli autori e quindi per creare anche dei movimenti culturali. Iniziamo il 23 giugno, quindi l'iniziativa è sempre una piazza di libri, e quindi 10 periodi del piano forte di Gabriele Cavallo. Questa è un'iniziativa che faremo all'interno del comune, quindi si tratta di un tema musicale. Poi il 27 giugno un'altra rassegna culturale, 50 sfumature di Milano, di Angela Chirbo. Poi abbiamo il 7 luglio una rassegna culturale, sempre piazza di libri, presenta Cappuccetto Arcobaleno di Comasia Scialpi. Il 9 luglio si presenta Sampa, madre avvolosa e pudele di Fabio Cantelli a Nibaldi. C'è un'altra iniziativa però fuori da questo schema ed è una presentazione di due volumi scritti dal professor Fistetti, sicuramente ci sarà anche mio fratello Roberto, e quindi presenteranno questo libro di filosofia. Poi abbiamo il 3 settembre, volevo essere come Riva di Luigi Cozzolino, il 15 settembre, ricomparare dal sud di Lino 419. Penso che vi ho indicati tutti però ci potrebbero essere anche altre iniziative. Poi c'è la presentazione di un nostro conterraneo, di Nochirulli, per quanto riguarda un trittico. ci sono un vocabolario del dialetto di Mila Castelli e nonché dei titteri, quindi sono tre volumi che ha scritto e che presenteremo e stiamo pubblicando. Un'altra presentazione di un libro di una nostra concittadina, Mariella Ligorio, che vive a Ceglie, vuole presentare un libro di poesia e lo farà dopo Ferragosto. Sceglieremo una data dopo Ferragosto. Monica, per gli anziani cosa stiamo facendo? Giusto per dire. C'è il soggiorno estivo per gli anziani, nella prima settimana di luglio, quindi chi si vuole iscrivere sono queste iscrizioni, quindi oltre ai bambini a correre per iscriversi, anche gli anziani possono farli. non anziani di 90 anni, pensionati, quindi la maggior parte degli altri anni erano anziani giovani, quindi molte persone che vedo qui possono già partecipare, è una bella vacanza, è una settimana veramente rilassante, si divertono, è un bel gruppo che va già da tanti anni consolidato, però si aggiunge sempre qualcuno di nuovo e si trova bene. Quindi se volete partecipare, fate la domanda e partecipate, è una bella esperienza. che non va bene. Allora Rocco, quest'estate stiamo collaborando insieme e anche giustamente come Presidente ci dai il supporto per poter andare avanti, ti passo volentieri la parola. Buonasera a tutti. Allora, niente, come giustamente dice il Sindaco, io vivo qui al Corso e in effetti la sera quando esci dalle attività, quelle bovine che ci sono, è un mortone. Quindi stiamo tentando di avvicinare artigiani che possano aprire delle attività qui al Corso, ma una cosa importante che ogni volta che ci incontriamo, come lo dico, è le luci. Per me le luci sono essenziali non solo al Corso, ma anche nelle altre parti del Comune, del Paese. perché questo tipo di luce sono state messe con uno scopo molto preciso. Incontro l'illuminazione del cielo per poter vedere le stelle, perché c'è l'inquinamento luminoso. però dobbiamo vedere, più che le stelle, dobbiamo guardarci in faccia noi, dico io, no? Quando camminiamo per le strade. E quindi è una fissazione che ho e che comunque sicuramente porteremo avanti. Parlando di quello che sarà pres'estate, sicuramente, come avete visto, un programma limpissimo che interesserà tutte le fasce di età, interesserà i più piccoli e i più grandi e quindi tutti insieme resteremo a Villa Castelli per stare insieme, fare festa e divertirci un po'. Per fare il modo che i pensieri rimangono alle spalle. Grazie, buonasera. Invece non per ultimo il vice sindaco Francesca Vigo, dove vi dico che Villa Castelli ormai da alcuni mesi ha approvato il distretto urbano del commercio, il DUC. Il DUC che ci darà la possibilità, nelle prossime ore, di poter fare un avviso per quanto riguarda i Deors, i campi e quant'altro, i nostri banchi e quindi fare in modo anche di migliorare il nostro centro urbano. Con Francesco ci siamo messi in impegni dal primo giorno e quindi mi auguro che quello che dicevo io all'inizio di serata possa diventire realtà per fare in modo che tante attività commerciali possano abituire sulla nostra città, sulla nostra bellezza a Villa Castelli. Prego a te la parola a Francesco. Grazie sindaco. Allora, io voglio invece dire a tutti voi che prima di tutto dobbiamo ringraziare tutti i nostri colleghi. Voglio io ringraziarli in prima persona perché tutto quello che stiamo facendo come amministrazione lo stiamo facendo perché c'è veramente uno spirito di squadra, uno spirito direi armonioso, uno spirito di gruppo che vuole fare il bene per tutta la nostra comunità. Noi oggi siamo qui seduti con i genitori vogliamo portare avanti un percorso che abbiamo iniziato quattro anni fa e questo percorso lo vogliamo terminare nel migliore dei modi. Lo vogliamo terminare diciamo con un progetto che servirà per far crescere tutte le nostre famiglie. Il sindaco iniziava a parlare dal DUP, dal distretto per il comunaggio. Questo servirà a far rilanciare il nostro paese sotto un aspetto commerciale e di conseguenza anche culturale. Io spero che tutte queste iniziative che stiamo facendo servirà veramente per dare un rilancio al nostro territorio. Un rilancio direi non solo sotto un aspetto economico, sociale, culturale ma un rilancio direi rivoluzionario perché finalmente questa amministrazione ha dimostrato il controtendenza a quella che era il ristagno del nostro territorio a far rivivere veramente la nostra città. Come diceva il sindaco inizieremo a fare dei percorsi dove con dei progetti concederemo delle aree pubbliche finalmente per Villa Castelli cosa che non si è mai vista. Grazie. 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 Questo vento caldo mi riporta a Salerno Noi due ragazzine andando al mare sul mezzo Era tutto diverso, oh 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 Noi ci vediamo da un pezzo, oh 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 E non metterlo, mi manca un po' Tornare l'onde tutto cominciò C'errimoni ritornano come l'onde del mare E noi che non siamo stanchi di fantasticare Ma poi basta un momento Andarli mentre stai dormendo E gli occhi giocando sul vento Pesate le guaglie e la merita Non avresti mai detto Sciogli i capelli nel vento Ma che sei passato nel tempo Tu rimani sempre fantastico Perché io su questa storia c'ho scommesso di brutto Mi riso e voglio in bella ora perderò tutto Io che proprio non volevo diventare un adulto Già è andata il mondo e noi l'abbiamo distrutto Mi riso e voglio ritornare come il primo Nella mattina guardando il mondo Ma non alla prospettiva Non è vicina una bambina che non è cresciuta più C'errimoni ritornano come l'onde del mare E noi che non siamo stanchi di fantastico Pensi di poter stare molto in mano E invece resterò per sempre il solito italiano Ho una canzone in testa e sogni chiusi in una mano E invece resterò per sempre il solito italiano E invece resterò per sempre il solito italiano E invece resterò per sempre il solito italiano E la prossima è una canzone che ci parla d'amore ragazzi Chi vuol non c'è e questo è l'importante Che per innamorarmi di te non c'è voluto niente Sai ci vuole molto più tempo per E non sentire se vuole la balanza Mai che ti sa vicino non lo sai Qual è la chiave per entrare Ma io ti so di che tu forse non mi vorrai dare Mi sbagliami quei soliti Non ti conosco ancora bene Perché nel nostro caso non c'è voluto niente Per innamorarmi di te Non c'è voluto niente Un vero motivo non c'è E questo è l'importante Che per innamorarmi di te Non c'è voluto niente Sai Non ci vuole molto più tempo per Insieme insieme Per innamorarmi di te Non c'è voluto niente Un vero motivo non c'è E questo è l'importante Che per innamorarmi di te Non c'è voluto niente Sai ci vuole molto più tempo per Per innamorarmi di te E adesso vorrei sentire La voce di tutte le ragazze L'estate non torna Se è brutto e ritire Per donare a stu bagno Nelle pacchie C'ha fatto il passato E c'ha fatta e cuntie Scano montagne Controvo il deserto Con sull'uco una barca Il mare aperto Non vicio la fame Sponfigo la fame Scimessetto a mangiare Pago sull'uco a pestù Trossi d'estate Assunta la luna Bacchichate assunta la luna Che penso sempre Questa stiura Perché senza le piede Fanno paura Abbiamo un ballerino Su un ballericano E la seconda parte Abbiamo bisogno di spallerine Ogni notte di andare Mi sono da casa E io ho fermato Se tutto Dai, dai, dai Oggi Sarà sola Io sarò Sempre Se fassi Abbiamo bisogno di spallerine Abbiamo bisogno di spallerine Abbiamo bisogno di spallerine Grazie a tutti